ciao ragazzi è stato molto bello nel 2021 riuscire a vincere l'ordine di merito dell'alps tour e che sia una buona gara domani per tutti tra dei giri e speriamo che qualcuno di voi riesca a farcela e arrivare sul challenge tour l'anno prossimo buona gara ciao ragazzi è stato bello l'anno scorso vincere il grand final no il grand final non l'ho vinto scherzavo vincere l'ordine di merito e vi auguro una buona fortuna divertitevi italiani in bocca al lupo e niente portate alla casa e vi aspetto sul challenge l'anno prossimo un abbraccio